C'è proprio una bella faccia a venire qua. Io credo che proprio in questo momento il mio avvocato sta parlando con la tua collega. Come si chiama? Tricci. Stringi le chiappe per la FIFA, eh? Ma che fai? Ti sei degnata di darmi udienza e le sfottere? No. E che ho pensato? Ho pensato che poteva tornarmi utile al processo. La tua firmetta sul registro per questo colloquio. E se questo ti sei sbagliato? Perché di questa agliacchierata non resterà nessuna traccia. Ah. E tu sei un tipo buono. Sei un tipo previdente. Ma non ti servirà per salvarti il culo. Sai di che fai? Minaccio l'ultimo amico che ti è rimasto. Amico? Amico, tu hai lasciato che ammazzassero Isabella. Scherzo! Sei stato tu a rubare quattro chili di droga ai Vitiello. Sei stato tu a metterli in pericolo. Ed è stata lei a voler tornare a Napoli. Io le avevo trovato un posto sicuro. Io ho fatto di tutto per promeggielo. Tu no! È stato profeta a farla ammazzare, lo sai? Eh? Io le prove. Se ti vuoi vendicare di qualcuno, dai in basta alla di Vitiello e profeta. Ma lascia stare delosa. Sai che ti dico? Non me ne frega più un cazzo di chi ha tirato il grilletto. Isabella è morta. Ed è anche colpa tua. Quindi io adesso spuntano tutti. A ti! E ai tuoi amici compresi. Colloquio finito!